La fondazione è attiva sul territorio pesarese dal 2015 e siamo partiti con una sfida grossa, vogliamo dare autonomia ai ragazzi con disabilità complessa del territorio pesarese. Dal 2015 portiamo avanti prove di volo e lo portiamo avanti grazie a voi, grazie al sostegno di tante aziende, di tante persone del territorio pesarese che credono nei nostri obiettivi e nella deistituzionalizzazione del futuro dei nostri ragazzi disabili. Quindi invece di prevedere un futuro negli istituti, lavoriamo con disabilità adulta per consentire loro di andare ad abitare in una casa, una casa loro, tant'è che il simbolo di quest'anno è proprio una casina con dentro dei cioccolatini, la casa come simbolo di autonomia possibile per tutti. Approfitto di questo momento e vi ringrazio per darmi questa possibilità di ringraziare veramente tutto il territorio pesarese e tutte le aziende, i privati che ci stanno sostenendo attraverso delle donazioni con le quali noi cerchiamo di ringraziare con i nostri piccoli prodotti solidali. Parliamo di panettoni prodotti a chilometro quasi zero perché è un nostro sostenitore, il panificio Fabri di Iesi, cioccolatini e rovelli, e delle penne con dei piccoli semi all'interno, proprio simbolo di crescita. Il nostro brand se vogliamo è Aiutami a crescere, quindi abbiamo cercato veramente di unire quello che è il nostro ideale di autonomia, di crescita e di sviluppo dei ragazzi con dei prodotti solidali che potete trovare in diversi punti vendita del territorio pesarese e vi consiglio di seguire la nostra pagina Facebook per non dimenticarne nessuno perché veramente temo di poter dimenticare qualcuno, ma soprattutto chiediamo di venirci a trovare in sede, noi siamo in via Sirolo e il nostro appello è proprio di adottare il nostro progetto, si parla di adozione a distanza, il nostro è un'adozione a vicinanza perché siamo su Pesaro, siamo qui, siamo in via Sirolo, potete venirci a trovare e sopra di noi c'è proprio l'appartamento in cui i ragazzi sperimentano queste soluzioni di vita autonoma, sia con delle notti, quindi il progetto prove di volo, ma anche con altri progetti propedeutici a prove di volo, come per esempio il progetto incontro che vede dei momenti sempre di vita autonoma, magari però più proiettati verso il pomeriggio e la sera e il nostro obiettivo è quello di allargare il nostro bacino d'utenza sicuramente, quindi dal dopo di noi, quindi disabilità adulta, al progetto propedeutico, quindi un pochino prima della vita autonoma e perché no, diciamo progetti dagli 0 ai 99 anni, vogliamo crescere insieme a voi.